Salve amici, sono Fabrizio Cerrone di Promotion TV e oggi ho qui per voi un prodotto rivoluzionario che cambierà per sempre la vostra vita. Sei così brutto che quando sei nato gli schiaffi li hanno dati a tua madre? Fai così schifo che quando arrivi ad un incrocio in macchina il semaforo diventa subito verde per farti andare via? Nessun problema amici, è arrivata Pop Ice L'Energy Drink che risolverà tutti i tuoi problemi di autostima Con Pop Ice Energy Drink tutte le belle ragazze non avranno occhi che per te Grazie ai principi attivi contenuti nell'Energy Drink come la popicina e la trombeina Da brutto sfigato, dopo aver drincato la fantastica Pop Ice diventerai un figo Come avere Pop Ice? Semplicissimo Signi ai contatti in culo in pressione e avrai tutte le Pop Ice che desideri Cosa state aspettando allora? Svuota mente e porta fogli Bevi Pop Ice Grazie a tutti 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 Grazie a tutti